Ciao a tutti e benvenuti a Vitek Tape Albania, il programma ufficiale di Vitek Records. Io sono Rossella e sarò in compagnia degli ascoltatori di Radio Travel Albania per questa mezz'ora. Ciao ragazzi, sono Alessandro dell'etichetta italiana Vitek Records. Ciao a tutti e benvenuti a Vitek Records. Ciao a tutti e benvenuti a Vitek Records. Ciao a tutti e benvenuti a Vitek Records. C'è transkriptohet nga 80 radio në vendet e ndryshmi dhe potës dhe ekskruzivisht për Shqipari në Radio Travel. This is Vitek Tape, show on air everyday, indie music from Tavern di Corciano to the world. Ciao a tutti e benvenuti a Vitek Tape, il programma ufficiale di Vitek Records. Io sono Rossella e starò in vostra compagnia per la prossima mezz'ora. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Three people Grazie a tutti And this Vi-Tec-Tapes Grazie a tutti 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 E' solo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti